E il comune ha un obiettivo comune che è appunto quello di portare avanti il progetto dello stadio. I proponenti oggi hanno illustrato anche in dettaglio molti aspetti del progetto. Noi come amministrazione abbiamo formulato alcune domande e abbiamo formulato anche alcune considerazioni, alcune valutazioni. Quindi continueremo a lavorare insieme, quindi sono previsti ulteriori incontri tra di noi, sempre nel rispetto dei tempi della conferenza dei servizi.